musica 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 ma non è che mi interessi che è veramente scusi perché già me ne avete fatto fare uno non so ecco tipo qua e ci devo andare ah c'è un qualcosa di abbandonato si ma guarda dove cazzo siamo noi però eh cioè noi siamo in culo del mondo siamo guarda quasi quasi mi faccio questa prima di andarmene così sai si si circuito vista città si 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 è questo va bene esibizione circuito vista città possiamo partecipare con la scelvi ok perfetto vediamo vediamo cosa ne esce fuori però vediamo cosa ne esce fuori si 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 così così vai vai siamo pronti siamo pronti siamo pronti tre giri addirittura io non vorrei salire nel marciapiede perché poi lo so come va a finire guarda attenzione c'è il buco ci infiliamo ma ecco facciamo sesti aia la macchina se ne va dai così dai così occhio tocchiamo lo stesso ma se mi sono attaccato al freno come una volpe a lube qua invece è lì scelga dove stare sinistra o destra no cazzo grazie per lo spintino si arriva la spintina questa era bella questa era bella va bene va bene va bene e l'abbiamo mancato di brutto lo sapevo e che non lo sapevo io che era una merda l'ho preso però l'ho preso l'importante è quello giro due siamo quinti siamo quinti siamo quinti noi ci appoggiamo naturalmente ma se no va bene va bene terzi aia mamma mia si è piantata questa è colpa del marciapiede io lo so io lo so che è colpa del marciapiede quello è il re della sportiveggianza eh se non lo conoscete scusate mi appoggio eh non non avvercene non ce la farei aia ma la che non siamo agli autoscontri ma che cazzo sono le giostre quelle mi dà più co ah che dà quello come il chiodo ma dimmelo il tuo l'appoggiamo anche noi allora allora spingiamo anche noi spingiamo visto che spingono tutti qui vienete il marciapiede così vai aggressivi aggressivissimi proprio abbiamo preso? si si l'abbiamo preso però se riuscissimo anche a rimanere in strada sarà già qualcosa più meglio e in che fatti se non ci soppassano tutti via dal marciapiede scelvi e cazzo e dai bello minchia da davanti che ci vuoi fare no no cazzo eravamo lì lì mi è rimasto davanti non sono riuscito a dargli una testata va bene va bene dai ci accontentiamo del terzo posto ci accontentiamo del terzo posto perché no è arrivato terzo 12.000 crediti dai siamo a 231.000 non è male qui abbiamo gareggiato con il re della sportiveggianza non lo so io è il suo nick è il suo nick è il suo nick prima guardiamo la mappa perché qui le gare le abbiamo fatte e ce n'è una nuova acrobazia sconosciuta quindi direi di andare a farci questa in modo che poi scendiamo giù per andare a fare il nuovo coso di horizon il livello 2 vabbè dai andiamoci a fare l'acrobazia sconosciuta poi vediamo va è che non lo so non mi tocchi ecco vabbè ha ragione anche lui occhio 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 vabbè credo che ci vedremo direttamente alla gara eccoci arrivati Byron Bay Festival e sbandi so già che si sentirà la musica e ci beccheremo di nuovo un altro copyright un minimo giusto così un altro avviso che non fa mai male si guarda questi si vedono si vedono si vedono che stanno lavorando troppo si vedono che stanno lavorando troppo si vedono che stanno lavorando troppo guardami mi preoccupare delle cose ti ricordi solo di salutare quando passi di qua ricordati solo di salutare quando passi di qua no non lo faccio a posto sono proprio così è una bella macchina oh attenzione guardate cosa ci da oh mio dio no 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 allora facciamo che ci prendiamo no 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 ne voglio una forte ne voglio una brutta ne voglio facciamo che ci prendiamo questa e io ragazzi qui taglio e vi faccio vedere il risultato finale della macchina a sorpresa è più bello la sorpresa dai ahahahah cosa ne dici ragazzi visto che era l'estate di pokemon go ho ben pensato di scaricare la skin di pikachu eeeh 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 questa macchina come pikachu perché mi sembrava giusto in effetti oddio guarda con le luci accese si può vedere Ok, basta, basta Eh, sì, sì, guardi, noi abbiamo finito veramente Dopo questa stronzata, no, non lo so, eh Vediamola, vediamola subito all'opera, dai Facciamoci una galettina Grazie, grazie Basta, basta Eh, che cos'è? 6.000 gare Già È lui, è lui, l'abbiamo ritrovato Allora, dove vai? Ale? Non riusciamo a stare indietro Non ci riusciamo Sfidiamolo, sfidiamolo Oddio Ale, aspettami No, non correre Guarda come sportiveggiante è quello Oh, aspettami Mamma mia come schizia Oh, aspettami Stiamo riavvicinando? Non è vero Non riusciremo mai a recuperarlo Ale? Ale? Aspetta Attenzione, attenzione Ci rifacciamo sotto alla fine Che salita Guarda che c'è il Pikachu che ti insegue, Ale E aspettami E aspettami però Vai, vai Occhio Poi non è neanche tantissimo più veloce di noi Dai, questo era il momento buono Sì, ma cosa ti sflesci? Dov'è? È qua, è qua Non facciamolo passare Non facciamolo passare Taglia, taglia Taglia, taglia 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 D'accordo il direccato. Ok, va bene, credo che questo ce lo vedremo la prossima volta Naturalmente quello che ho seguito un paio di volte è un altro youtuber Uno dei primi, il primo youtuber che ho seguito da quando non aveva iscritti Da quando, non lo so, anni, ormai anni E quindi vederlo, vedere il suo nick, io che lo inseguo, è qualcosa di... Va bene, ragazzi diciamo che per adesso ci possiamo salutare qui Ci vediamo nel prossimo episodio, naturalmente Ripartiremo sempre da qui e magari ci compreremo un'altra macchinetta e la faremo come questa In modo molto, molto, molto tamarro e bruttissimo Va bene, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video Niente, ci vediamo alla prossima Ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi Ciao ragazzi!